Buongiorno ragazzi, scusate ma ieri ero in trasferta, riparto stasera, non potremo fare una live prima di fine settimana ma nel frattempo aspettando Pinco mi allena un po' perché c'è questa Pinco che praticamente c'è questa Ollus che presterebbe i soldi a Zang quindi vogliamo vedere le condizioni in questo prestito vogliamo vedere gli interessi vogliamo vedere cosa dà in garanzia vogliamo vedere un po' tutto anche perché sai hanno hanno già spostato la data cinque volte prima il cinque poi il nove poi il dodici e ora siamo finiti al quindici anche i fuori classe di Twitter quelli che fanno finta di sapere le cose parlando parlando a mezzo capito vuole il discorso quindi io aspetto Pinco nel frattempo rispuntano fuori ancora questi sauditi che chissà come mai è l'ultimo nome che resiste come possibile acquirente ma secondo te perché è l'ultimo nome che resiste perché sono gli unici che si possono permettere un carrozzone pieno zeppo di debiti perché io vi volevo ricordare che l'Inter si sorregge solo ed esclusivamente su debiti e l'unica squadra al mondo che si sorregge solo ed esclusivamente su debiti e abbiamo uno che è sparito che non viene nemmeno alla festa della seconda stella mandate Moratti mandate Moratti alla festa fatelo per l'immagine dell'Inter mandate Massimo Moratti alla festa dell'Inter della seconda stella è una vergogna è una vergogna a quella festa ci deve essere il presidente dell'Inter sia chi sia mandate Massimo Moratti alla festa dell'Inter della seconda stella perché è una roba vergognosa è inaccettabile questa roba qua manda gli emissari dove ma quali emissari manda ma chi manda i cane ma chi deve mandare quello lì chi deve mandare comunque noi aspettiamo l'ufficialità di Pinco vediamo vogliamo vedere le condizioni di Pinco però stamattina il giornale di Belpietro parla che comunque è un giornale neutro che la verità parla di sauditi nell'Inter ci sono i sauditi nell'Inter non è vero che dei sauditi parlo al canale del truffatore non è vero che i sauditi al socio del truffatore parlo non è vero che ne parla solo il sole 24 ore poi te te che eri socio del truffatore di primo e offendevi zang e ora sei lì che gli lecchi il culo perché c'hai persone che ti fanno la trasmissione perché te non sei buona un cazzo a cui piace zang te eri il primo e offendevi zang si deve levare dai coglioni ora sei lì che lo lecchi su youtube mi fate schifo voi fate schifo e bevi meno posalo il fiasco perché l'alcol ti dà male questo è un consiglio perché io non voglio il male di nessuno posa il fiasco perché l'alcol a te ti fa male a te a qualche uno vicino a te posate il diminuite l'alcol perché fa male ogni tanto bevo anch'io ci mancherebbe ma diminuite l'alcol perché vi fa male gente che ha sempre infamato questo presidente che ora li vedi su youtube siccome fanno salire persone che gli fanno le trasmissioni perché questi sono inguardabili inascoltabili ora leccano il culo a zang quindi vediamo le condizioni di questa onlus che presterebbe i soldi e lo so che poi ora c'è anche quello lo so che potrebbe lo so che ha fatto anche operazioni debiti ha prestato ma non è il business principale di pinco quindi scopriremo a breve chi è questa pinco sempre se entra ma io sono qui che aspetto l'ufficialità noi siamo qui che aspettiamo l'ufficialità che purtroppo per voi ancora non arriva poi sicuramente arriverà però per ora io non vedo nessuna ufficialità di pinco non vedo nessuna ufficialità e poi dopo vedremo vedremo in caso zanga andasse avanti perché ormai anche pinco pensi qualora gli prestasse soldi pensa gli presta i soldi così senza garanzie devi vendere ti devi togliere dai coviglioni vogliamo fare un altro mercatino a zero quest'estate e tanto basta fare i mercati a zero che noi vinciamo addirittura ho letto e pinco nei giornali di pechino ho letto e pinco gli regala 50 milioni ho letto e pinco gli regala 50 milioni quei 50 milioni non gli bastano nemmeno per gli interessi io voglio vedere anche a che interessi sempre se pinco sarà ufficiale perché noi partire in caso noi partiamo già a meno 60 gli interessi di pinco quindi vuoi fare un altro bel mercatino a zero quest'estate perché tanto con zanga con i mercati a zero si vince vero è quello io voglio dire solo una cosa in conclusione di video molti tifosi dell'inter si sono venduti l'anima la dignità la propria moralità molti tifosi dell'inter che hanno sempre denigrato i tifosi della juve per il loro claim che il loro claim è sempre stato vincere l'unica cosa che conta voi molti tifosi dell'inter sono diventati peggio degli giuventini perché vincere l'unica cosa che conta anche se è stata calpestata la dignità di questa società in tutte le maniere per come è rappresentata qui ancora vince l'unica cosa e conta non si dice perché quando diranno anche all'inter che l'unica cosa e conta e vincere io ci penserò bene so se mi sono spiegato aspetto pinco ciao inter